Buonasera e benvenuti a questa puntata di Telegram. Oggi torniamo su un tema molto importante perché se c'è una cosa che è stata chiarita, forse l'unico risvolto veramente positivo di questa emergenza coronavirus e del conseguente lockdown è stato l'impatto che esso ha avuto sull'ambiente che al di là della questione che poi è strettamente legata a una questione invece negativa, quella dell'impatto economico. Ovviamente laddove ci si muove di meno, si produce di meno, le fabbriche funzionano meno, si inquina meno, ma come dire si soffre più per l'impatto economico. Però ha capito anche che il paradigma evidentemente per una ripartenza deve essere quello di basarsi proprio come concetto principale proprio sulla sostenibilità ambientale. Di questo parleremo con il Presidente dell'Egambiente Toscana, Fausto Ferruzza. Buonasera e benvenuto. Salve, salve a voi tutti. Grazie. Allora, come dicevamo, insomma, sono stati tre mesi di stop che però hanno chiarito, intanto hanno un po' sgombrato il campo da alcune fake news, no? Del fatto che, insomma, l'impatto umano poi sull'ambiente non sia così determinante, invece, insomma, è stato chiarito che l'effetto è il contrario. Guardiamo subito tre cartelli, noi li abbiamo presi in esame, questi sono dati dell'ARPAT. Partiamo dal cartello 1 che sono le ricadute sulla qualità dell'aria dal 1 gennaio al giorno di oggi, all'11 giugno. E lo vedete, insomma, la curva è abbastanza plastica. Questo riguarda le PM10, se non sbaglio, il cartello 2 riguarda le PM2,5, scorriamoli direttamente, tanto, insomma, poi, come dire, è più nella curva che si capisce bene. Vedete i dati a gennaio a sinistra, come vanno a scendere. E poi abbiamo visto anche quella del benzene, che probabilmente è quella più riferita anche proprio all'utilizzo delle vetture. E anche lì, eccola qua, la curva è abbastanza chiara. Questo riguarda tutta la Toscana, nella provincia di Firenze, nelle zone più urbanizzate, è ancora più accentuata. Parlano da solo, insomma, questi grafici. Sì, ovviamente il tema che noi trattiamo ogni anno con il nostro rapporto malaria ci restituisce un'idea per cui la pressione antropica è sicuramente la fonte primaria dell'inquinamento atmosferico. C'era un picco sul PM10, come vedete, alla fine di marzo, è venuta vento di scirocco che ha portato sabbia dal Sahara. Ecco, il picco viola. 28-29 marzo. Esatto. Ecco, questo dimostra che ovviamente su alcuni parametri, PM10 e PM2,5, c'è una composizione di forze che in qualche modo determina il risultato finale del particolato, ma sul biossido d'azoto e sul benzene, i principali indiziati sono ovviamente i veicoli, le auto, insomma, per intendersi. Il benzene invece sono gli scooter. Vediamo sostanzialmente che invece c'è un decremento costante dentro ovviamente la fase di lockdown. Ovviamente queste sono cose notorie al mondo scientifico, noi le rileviamo a ogni rapporto di malaria a gennaio. Ovviamente come associazione ci siamo anche poco soffermati sulla, diciamo, perdonatemi, soddisfazione di un dato che decresce, perché siamo un'associazione che ha un'idea positiva della vita. Non occorreva il, diciamo, Covid-19 e la tragedia collettiva che abbiamo vissuto negli ultimi tre mesi per capire quello che è abbastanza dimostrato oramai dalla comunità scientifica. Quindi ci siamo guardati bene dal cavalcare un po', ecco, argomenti che potevano apparire anche molto facili in certi periodi del lockdown. L'abbiamo fatto anche per rispetto dei tanti morti, lo dico proprio con grande chiarezza. Oggi ci possiamo permettere qualche tono un pochino più puntuale e mi verrebbe da dire anche un po' più puntuto, perché se la ripartenza che vediamo è quella che stiamo già un po' vedendo nelle nostre strade urbane, cioè tutto in macchina, beh allora forse abbiamo imparato poco da questi 80 giorni, da questi 90 giorni. Non bastano, insomma, qualche incentivo sull'acquisto di biciclette evidentemente, no, perché quello può essere una piccola cosa, però poi insieme a quello ci vuole qualcosa di più organico, di più strutturale. Le voglio cadere subito una cosa però, no, diciamo, le faccio subito un appunto. Uno dice, proprio in un periodo in cui, come dire, c'è una grave crisi economica, si prospettano dei mesi molto difficili davanti, uno dice, oggi per il singolo imprenditore, il singolo commerciante mettersi all'anima di fare investimenti che convertano le aziende o in qualche modo le rendano green o abbiano un impatto diverso, può essere molto costoso, può essere una cosa che non viene nemmeno in mente perché si cerca di far quadrare i bilanci. C'è un po' qui la chiave, cioè deve costare poco la riconversione, no? Allora, io penso che si debba partire da un dato, perché se una cosa ci ha insegnato la pandemia è che è abbastanza ozioso, è abbastanza inutile tratteggiare ipotesi di ripartenza autoreferenziali. Voglio dire una regione che pensa alla propria regione, il comune che pensa al proprio territorio comunale, una nazione, uno stato-nazione che pensa al proprio governo. E stop. La pandemia ci ha insegnato che bisogna cooperare a livello globale e quindi anche per l'altra grande emergenza planetaria che è la crisi climatica, dobbiamo agire allo stesso modo. E quindi, a cascata dalle, ovviamente, istituzioni sovranazionali a partire dall'ONU, l'Unione Europea, gli stati nazioni, le regioni, tutti, coordinandosi, dovrebbero affrontare un piccolo quesito. Come tratteniamo i 415 parti per milioni di concentrazione di anidide carbonica nell'atmosfera per non arrivare rapidamente a 480 parti per milioni che la comunità scientifica ci descrive come la soglia di non ritorno? Perché questa è la domanda. E quindi, in sequenza, aziende, istituzioni, decisori, decisori locali, amministrazioni e poi anche, voglio dire, noi, cittadini, con i nostri stili di vita, che dobbiamo cambiare perché questa roba qui, l'emergenza climatica, è come un'altra pandemia. È stata sopra le nostre teste anche durante il periodo di lockdown. Non ce ne siamo, appunto, accorti perché eravamo rintanati in casa. Oggi mi permetto di dire, e lo dico con forza, dobbiamo riprendere questo argomento e metterlo sulla scrivania di tutti. E non è un problema di risparmiare qualcosina oggi per vedere magari un ritorno domani o dopodomani. È che ne va delle nostre vite. Semplicemente, quindi, o i management delle aziende riqualificano le proprie attività, ma mi verrebbe a dire anche ripensare ai prodotti che si creano e che sono utili in questa fase di ripartenza, anche nel medio-lungo periodo. Ecco, questo è un interesse di tutti, non solo dell'azienda per fare giustamente il proprio margine operativo di guadagno, che è legittimo. È legittimo. E anzi, io penso che in questa fase chi innova di più, chi si sa pensare di più nel ventunesimo secolo, cioè al futuro, riesce non solo a stemperare la crisi economica, che oggettivamente stiamo già tutti vivendo, perché è di tutta evidenza che se il mondo si ferma per 90 giorni ha delle conseguenze epocali. Questo è già sotto gli occhi di tutti. Ma se noi ci ripensiamo in termini di innovazione tecnologica, di sostenibilità, ma mi verrebbe da dire d'attenzione ai bisogni essenziali delle persone, allora forse significa che tutti noi un pezzettino del cambiamento di stili di vita, ripeto, a partire dalle istituzioni mondiali, a quelle comunitarie, a quelle nazionali e a quelle locali, e a partire da noi in primis come cittadini che esercitano il proprio pensiero critico, tutti assieme ce la possiamo fare. Ma solo se pensiamo in questo modo, quindi cooperando, non è più tempo dei municipalismi. Questa è una cosa che davvero c'è. Io se guardo le polemiche oziose che ci sono state sui sistemi sanitari regionali, che è clamoroso poi, ora non voglio infierire, ma è clamoroso come hanno fallito quei sistemi che volevano essere autocentrati non sul principio di prevenzione, ma su questo sistema ospedalocentrico per cui tutto doveva essere gestito in questi mega ospedali. Ecco, allo stesso modo per la crisi climatica e per le questioni ambientali, se non c'è una regia planetaria, una regia sovralocale, anche i nostri sforzi migliori, quelli più centrati, rischiano di essere vani. Di disperdersi. Senta, sì, qui è il grande tema, è il tema per cui, come dire, nelle scelte, anche nelle scelte politiche, dei decisori, poi anche nelle usanze di tutti, l'ambiente della sostenibilità dovrebbe diventare l'archetipo, invece fino ad oggi è stato un po' l'accessorio, cioè se c'è anche questo meglio, se no, comunque, invece dovrebbe diventare il paradigma primale. È una chiave, è una chiave di lettura in cui reinterpretare anche l'innovazione. Esatto. Significa guadagnare di più, cioè voglio dire, la nostra non è una visione pauperista, è una visione che se introietta l'argomento della sostenibilità ambientale, significa innovazione tecnologica e significa fare delle aziende anche più competitive, più moderne. Quello è un po' la chiave, anche per, mi passi il termine, perché purtroppo bisogna passare lì, farla diventare di moda, farla digerire poi dai decisori. L'economia circolare, vengono specifico, è un po' anche, ha in sé questo concetto qui, cioè nel rendere le risorse più utilizzabili e quindi meno costose in un certo senso e anche, e deve partire però dalla produzione, deve seguire tutto il processo. Vi faccio un esempio specifico, qualche giorno fa su una nazionale di Zacardi ha scritto che, insomma, ha accantonato definitivamente Case Passerini, il termo valorizzatore, probabilmente si andrà nella costruzione lì di un centro di riciclo, insomma, dei rifiuti. È una buona notizia? Allora, sì, è una buona notizia, a patto che tutti ci mettiamo nell'ottica che nel dopo raccolta, e sto parlando di un quinto del problema dei rifiuti in Toscana, quindi per i rifiuti urbani, ci si metta nell'ottica di fare gli impianti per riciclare davvero la materia. Perché dopo il cassonetto non è che scompaiono per decreto i rifiuti, devono andare da qualche altra parte. E siccome noi non vogliamo, vogliamo che ci vadano meno possibile in discarica, noi dobbiamo far sì che quelle materie diventino materie prime e seconde. e per fare questo occorrono impianti, impianti qualificati, ovviamente a bassissimo impatto, tecnologicamente avanzati, però va fatta una grande anche operazione di acculturazione sui territori, per cui l'economia circolare si sostanzia di impianti, non inceneritori, meno possibile discariche, ma certamente impianti di riciclo. Per esempio, i digestori anaerobici, i compostatori, cioè gli impianti di compostaggio, vanno ovviamente fatti e vanno fatti di prossimità, quindi quanto più vicini possibili alla raccolta dell'umido. Ovviamente perché ci sono delle economie di scale, ovviamente perché è giusto chiudere il cerchio per ogni singolo ambito territoriale ottimale, e poi perché mi verrebbe da dire è anche civile. A chiunque di noi non verrebbe mai in mente di venire a bussare al vicino di casa, senti ma per favore prendi la mia pattumiera. Quell'altro ti dice ma te te lo gestisci da te, la tua base. È esattamente la stessa cosa a livello di ambito territoriale e a livello di gestione integrata dei rifiuti. Ci vuole maturità e bisogna avere anche il coraggio di assumere qualche decisione in popolare, perché da quello che io vedo poi in giro per i territori che frequento, ma anche a livello nazionale, anche un digestore anaerobico, anche un impianto di compostaggio trova dissenso nelle popolazioni. Allora va fatta un'opera di acculturazione, di alfabetizzazione curata, scientifica, fatta bene, per dire è necessario e ci prendiamo la corresponsabilità di portare avanti questi progetti. Ne va della nostra civiltà, non è una questione di essere più o meno ambientalisti, ne va della nostra civiltà. Ripeto, a nessuno verrebbe in mente di andare a bussare al vicino di casa per far smaltire i propri rifiuti. Lì scatta la sindrome NIMBY, tutti vogliono le risorse ma nessuno vuole poi l'impianto di smaltimento o comunque l'impianto di riciclo vicino a se stessi, però appunto chi produce in teoria nelle zone dove si produce di più bisognerebbe anche smaltire più o meno in percentuale quello che si produce. Esatto, esatto. Non c'è niente da fare. Senta, volevo chiedergli una cosa, anzi, facciamo così, vediamo un servizio, questo è soltanto uno degli ultimi capitoli di un argomento di cui anche noi parliamo spesso, inchieste che riguardano infiltrazioni mafiosi le cosiddette eco-mafie che hanno a che fare con l'ambiente che hanno un costo per l'ambiente e quindi poi per la collettività davvero molto alto. Sentiamo Chiarecci. Si chiama Blue Mice l'operazione messa a punto dalla procura di Firenze che ha portato all'arresto di tre amministratori di un consorzio di gestione rifiuti del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno e di un agricoltore. Per loro l'accusa è l'utilizzo nei campi tra Pise e Firenze di 24 mila tonnellate di rifiuti speciali contenenti sostanze nocive di inquinanti. Le quattro persone infatti sarebbero coinvolte in un traffico illecito di rifiuti con accertato spandimento inoltre 150 ettari di terreni agricoli. Al centro dell'indagine i flussi di rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei prodotti conciari che venivano falsamente qualificati come ammendanti compostati misti per poi essere illecitamente smaltiti su terreni agricoli. Stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti i falsi ammendanti venivano poi venduti a imprese agricole al corrente della falsità dei prodotti che ricevevano un compenso stabilito sulla base della quantità di prodotto acquistato. Queste imprese infine a loro volta utilizzando documenti di trasporto e certificati analitici fittizi trasportavano e smaltivano i rifiuti spandendoli poi nei loro terreni agricoli. Questo era solo un esempio una filiera malavitosa che riguarda diversi ambiti la domanda è questa quanto pesano le eco-mafie in Toscana è uno dei temi su cui l'ambiente è molto attivo. È un tema cruciale per noi noi a luglio presenteremo il prossimo rapporto eco-mafia quindi fra un mesetto e mezzo circa è evidente che il ciclo dei rifiuti è quello più interessato in Toscana da problemi da infiltrazioni e anche da comportamenti quando anche non diciamo afferenti direttamente ascrivibili organizzazioni mafiose classiche diciamo delle quattro regioni a stabile insediamento mafioso però assomigliano tanto alla procedura mafiosa ecco cioè io sostanzialmente mi disinteresso del bene comune e utilizzo l'ambiente come fosse una specie di spazio di risulta bianco una pattumiera a cielo aperto che in qualche modo non interessa né a me né alla diciamo comunità ecco questo è un atteggiamento che quando anche non è ripeto ascrivibile a organizzazioni criminali propriamente intese è mafioso in sé ecco cioè il metodo è esattamente quello e l'ecomafia racconta molto di questa italia grigia che magari non è direttamente ascrivibile ai clan casalesi piuttosto a qualche indrina calabrese ma come metodo siamo esattamente lì allora questa è una inchiesta che fa poi il paio con un'operazione Demetra che invece è partita qualche anno fa e che sostanzialmente descrive una fattispecie molto molto simile io dico una cosa l'economia circolare ha bisogno di rigore in tutti i suoi passaggi occhio che a saltare qualche passaggio il discrimine è molto labile per diventare poi ecomafia perché è evidente che se uno salta l'ultimo passaggio la sanificazione la bonifica di quello che è magari un fango di risulta di un'attività assolutamente legittima ma è l'attività conciaria nel nostro compensorio del cuoio e salta quel passaggio lì e riversa tal quale in ambiente quella roba tu non fai più economia circolare te stai facendo comafia ecco per dire che la sostenibilità ambientale e l'ecologia hanno bisogno di rigore in ogni passaggio e ovviamente l'ultimo miglio è fondamentale io lo dico sempre sono stato anche audito in consiglio regionale su questo l'ultimo miglio è fondamentale il sanificare lo spazio di risulta quel materiale di risulta che è un'attività legittima industriale che tra l'altro sostanzia uno dei distretti più importanti della nostra regione il comprensorio del cuoio e io non voglio criminalizzare i nostri distretti ma quell'azienda che sbaglia mette discredito su un intero distretto e un intero sistema regionale non va bene noi ovviamente facciamo fare il proprio corso alle indagini ovviamente c'è la presunzione di innocenza ma troppe volte abbiamo visto leggerezza e spregiudicatezza nell'ultimo miglio l'ultimo miglio è fondamentale cioè dobbiamo sanificare bonificare e quindi rendere inerte quel materiale di risulta per poi poterlo reimpiegare se non si fa quello poi si fa eco mafia le chiedo un'ultima cosa però che forse è la più importante perché poi raggruppa tutto quello di cui abbiamo parlato lei parlava di una zona grigia di un'Italia grigia che in qualche modo si disinteressa del bene comune e come dire ci sono poi delle evidenze che hanno a che fare anche con appunto inchieste e attività illecite però c'è anche un fondamento culturale forse di questo e nel nostro paese ancora non è non è radicato cioè del fatto che l'ambiente non sia un po' come lo Stato sia qualcosa che ci tiene tutti insieme raggruppa è parte di tutti noi non è qualcosa un'entità a sé stante da cui possiamo usufruire o che possiamo sfruttare in determinate situazioni quando ci torna comodo c'è una percezione un po' panteistica se vuole però insomma del fatto che noi stiamo tutti insieme nello stesso ambiente le chiedo uno se secondo lei questa emergenza coronavirus ha cambiato un po' culturalmente o cambierà culturalmente questa questione se i giovani dall'altra parte hanno una marcia in più hanno delle chance anzi in più di poter essere attori protagonisti diciamo di questo cambiamento allora ovviamente sono domande molto importanti che meriterebbero un approfondimento molto diffuso che io ovviamente ora non posso trattare però voglio rispondere in entrambe le direzioni con criteri e con toni esaustivi insomma la prima noi siamo uno stato relativamente giovane siamo uno stato fatto di identità regionali e municipali più forti dell'identità nazionale e questo ce lo portiamo dietro anche per le polemiche a cui facevo riferimento prima perché insomma non vi sfugge che un sistema sanitario nazionale a mio avviso deve poter garantire gli stessi diritti al cittadino di Aosta come a quello di Lampedusa pari grado senza neanche una piccola differenza e tra l'altro si scopre che nelle regionalizzazioni e nelle privatizzazioni di questi sistemi qualcosa è andato storto anche in regioni dove invece si fa come dire tanta propaganda di essere i primi della classe sempre e comunque non voglio infierire sul modello lombardo ma sapete a che cosa sto facendo riferimento quindi l'idea del bene comune noi ce la dobbiamo conquistare sul campo ogni giorno non è una materia che possiamo dare per acquisita però io dico anche un'altra cosa dentro questa temperie di un municipalismo spinto di un'identità più regionale che nazionale c'è anche tanta tanta buona volontà e tante persone che magari non fanno notizia che non stanno sulle prime pagine dei giornali che in questi mesi hanno dato prova di sé ma io penso a tante associazioni di volontariato a quelle persone che si sono veramente messe sulla frontiera proprio in prima linea contro questo male terribile che veramente ci ha devastato in questi tre mesi e hanno rischiato la propria vita per aiutare gli infermieri aiutare i dottori aiutare il procedimento di protezione civile tutto questo enorme processo di aiuto che abbiamo dato ovviamente al problema che ci stava incombendo sopra la nostra testa quindi io sono per natura ottimista penso che questa Italia nascosta che poi si rimbocca le maniche e reagisce alle cose più gravi che ci sono capitate possa prevalere per prevalere e qui rispondo anche alla sua seconda domanda la parte giovanile è fondamentale la speranza è e con i nostri percorsi di educazione ambientale davvero lo vediamo tutti i giorni che i giovani i ragazzini veramente i bambini anche le scuole elementari che sono i più severi scensori di come poi magari si fa la differenziata a casa perché il nonno sbaglia dove mette la lattina per intendersi perché queste cose noi li vediamo costantemente nei nostri percorsi di educazione ambientale ecco che questa classe dirigente di domani sia più avveduta abbia un senso diciamo per la collettività per il bene comune un pochino più acuso è un pochino più colto più maturo di quanto non abbiamo avuto noi e la generazione che stava un po' sopra di noi la dico così come senso di speranza come segno di speranza per il futuro bocca al lupo a noi esatto ne abbiamo tanto bisogno viva il lupo grazie mille a Fausto Fruzza per essere stato con noi a voi davvero di cuore a tutti per averci seguito la casa Telegram termina qui noi ci vediamo domani buona serata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.